Sconfitta pesantissima in chiave salvezza in Serie 2 per la Mocambo Chieti Basket a Sansevero. Finisce 67-61 per i padroni di casa. Chieti parte male ma poi riesce a sorpassare all'intervallo lungo. Gli uomini di Raiola dopo i primi 20 minuti sono avanti 33-32, ancora meglio nel terzo quarto, chiuso con un più due di parziale per il 50-47. Grazie a un canestro più fallo realizzato da Terrence Roderick, il migliore degli abruzzesi con 18 punti, Chieti a un minuto e mezzo dalla fine e avanti di tre. Ma Raivio e Lupusor sono infallibili e Sansevero sorpassa di nuovo. La tripla del controsorpasso è affidata a Terrence Roderick ma il tiro da tre punti viene sputato dal ferro. Nella finale è più preciso Sansevero e chiude 67-61. Parola d'ordine ora a recuperare Jackson per formare con Terrence Roderick una coppia di americani sul periodo invidiabile in Serie 2. Non sono bastati i 18 di Terrence Roderick, in doppia cifra anche Ancelotti con 10 punti e Bartoli con 11. Il migliore realizzatore di Sansevero, Nick Raivio con 18 punti.